Come portate a letto una donna che cerca uomini ricchi, anche se sei povero? Allora, ci sono alcune condizioni preliminari, dovresti abitare in una grande città, poi capirai perché, dovresti conoscere una persona molto importante, cioè uno che lavora un'uscere, diciamo, alla reception dell'hotel più bello della tua città, quindi fate l'amico, offri lì il caffè, fai quello che vuoi, ma questo è importante, e poi conoscere un lavavetri, allora, arabo però, di origine magrebina, diciamo così, un lavavetri magrebino. Allora, quello che devi fare è contattare magari su siti dove ci sono donne che cercano uomini ricchi, insomma, in qualche modo, entri in contatto e dice a questa che avrai un appuntamento con uno sceico arabo nella sua città, che se volete così vi conoscete, bla bla bla, insomma, senza dire specificamente cosa fai e cosa non fai, insomma. Vedrai che quando parlare di sceico arabo sicuramente ci sarà, vorrà fare l'incontro. Allora, gli dirai che arriverai nella tua città, nella sua città, che in realtà è anche la tua, ma che lei non sa, e gli dirai che stai nella suite dell'hotel più lussuoso della tua città, quello da 5.000 euro a sera, a notte, e qua scatta la cosa, scatta il tuo amico uscere del coso, perché lei dovrà andare lì, dice, guarda, vieni lì, parli con la reception, gli dici di chiamarmi e io scendo, arrivo, perché poi ho un incontro con lo sceico arabo, insomma, tu ovviamente arrivi prima nell'hotel, ti vai a infrattare da qualche parte, nel bagno, non so così, lei arriva, chiamerà alla reception, c'è il tuo amico, che sa tutto ovviamente, ti farà uno squillo sul cellulare, e tu uscirai dal bagno, ovviamente, devi avere un vestito un po' decente, comprati un vestito, anche un abito usato, marcato, insomma, in qualche modo, scendi, e gli dirai, guarda, ho solo poco tempo, perché poi nella suite qua vicina c'è lo sceico arabo, e bla bla bla, insomma, il messaggio che devi far passare è, guarda, io sì, mi piacciono le donne, però mi piacerebbero le donne che non fossero solo attratte dai miei soldi, no? Butti lì una frase, dopodiché fai scendere il magrebino vestito con l'abito da carnevale, da sceico arabo, e dici, guarda, devo salutarti, poi comunque siamo in contatto via WhatsApp, no? Una cosa del genere, e lei non vedrà l'ora di portarti a letto, praticamente, perché, però, sarà facile che la prossima volta ti inviterà a casa sua per non fare la figura dell'arrampicatrice sociale, e...